Uno dei temi ricorrenti nel mondo assicurativo riguarda la selezione di nuovi collaboratori. È un'azione assolutamente corretta, soprattutto se si considera il fatto che i progressi dal punto di vista tecnologico richiedono oggi professionalità diverse da quelle dello scorso decennio. Le compagnie, ma ancora molto di più, gli agenti in prima persona, attuano campagne di selezione che hanno un certo successo e portano nelle agenzie nuovi soggetti pronti per intraprendere la professione di assicuratore. Il dato su cui riflettere però è quante persone abbandonano dopo pochi mesi. Questi abbandoni significano un costo importante per la gente sia in termini di investimenti in selezione che di tempo dedicato alla formazione. Recentissime indagini hanno identificato quali sono le ragioni principali di abbandono e, contrariamente a quanto si può immaginare, il guadagno non è ai primi posti, ma è preceduto da altri elementi essenziali. Sulla base dei risultati di queste indagini abbiamo creato delle soluzioni per riuscire ad avere sempre personale fortemente motivato e quindi in grado di far aumentare significativamente il fatturato dell'agenzia. Se hai una rete di collaboratore, se sei interessato a sapere quali sono i fattori che li motivano maggiormente e se ti interessa vedere crescere in modo costante e importante il fatturato della tua agenzia, scrivi info nei commenti e potrai avere una consulenza gratuita da parte di un nostro consulente. Ti aspetto, ciao!